Il 15 gennaio ha previsto un incontro fra comune, provincia, sindacati e azienda per fare chiarezza attorno alla vicenda dell'ATC. Sì, il 15 gennaio ci sarà questo tavolo e vorremmo cercare di capire se e quanti saranno poi in definitiva questi tagli, se i comuni della provincia saranno disposti a mettere sul piatto qualcosa come chiede il comune della Spezia e quindi siamo in attesa di questa riunione per cercare di venire a capo della situazione. Quali sono le vostre preoccupazioni maggiori? Le preoccupazioni maggiori sono i posti di lavoro, che è la cosa più importante di questa vicenda. Si parla di tagli, quindi quando si parla di tagli e di risorse si rischia di una ripercussione sui posti di lavoro, dove non c'è solo ATC ci sono anche gli appalti che lavorano con ATC. I tagli al trasporto pubblico non comporterebbero solo un problema di posti di lavoro ma anche un disagio nei confronti di tanti cittadini? Certo, perché quando parliamo di taglio di risorse si parla anche di taglio di chilometri. Di conseguenza si va a togliere magari delle corse dove ci sono delle persone anziane che hanno difficoltà di mobilità propria e quindi si crea un disagio non indifferente. Anche a fronte che si parla di aumento dei biglietti, lo stesso, andiamo sempre a colpire comunque le categorie di persone che soffrono di più, che hanno più problemi. Parlando di trasporto pubblico, il sindaco ha pochi giorni fa presentato un piano di investimento per aderire al bando del Ministero dei Trasporti che rivoluzionerebbe la mobilità locale. Si guarda con speranza questa prospettiva? Assolutamente sì. Speriamo tutti che vada bene perché si parla di 41 milioni di euro di un allargamento della rete filoviaria, quindi mezzi nuovi e quindi sarebbe importante per noi e per la città.